E' Luigi Febo, il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Chieti. E' quanto deciso nel primo consiglio dell'amministrazione Ferrara, svolto eccezionalmente al Teatro Marrucino e in diretta streaming per scongiurare contagi da Covid. Con 24 voti Febo assume la presidenza, entrato nuovamente in consiglio con la lista Chieti per Chieti, alle ultime amministrative è il risultato il più votato del centrosinistra. Vice Presidente Vicario è Silvia Di Pasquale, della lista civica Chiama Chieti, mentre Vice Presidente Aggiunto è Giuseppe Giampietro di Fratelli d'Italia. Nell'occasione si è svolta anche la cerimonia del giuramento del primo cittadino. Stando alle premesse, questo sarà un governo cittadino fortemente improntato sul sociale, le parole del sindaco Diego Ferrara. Non ci saremo cittadini, come ci saremo per chi vive vite difficili, attraversate dalla malattia, dall'indigenza, dalla precarietà, oppure condizionate da problemi che la pubblica amministrazione può risolvere. Uomini, donne, bambini, giovani, anziani, ci occuperemo di tutti, lo faremo insieme e senza distanze e distinzioni, perché la solidarietà e la sussidialietà sono e saranno valori fondanti della mia azione di sindaco.